Ciao a tutti e ben tornati su This ASMR Anche oggi, come tutti i giorni, un nuovo video Oggi vorrei vedere un po' insieme a voi e leggere questi articoli sul rossetto sulle varie tipologie che possono essere utilizzate sui vari stili, insomma, di applicazione del rossetto Vabbè, sicuramente è un argomento leggero spero, insomma, che interessi a molti di voi ma in realtà lo scopo di questo video è quello di rilassarvi e ho deciso di prendere questo articolo perché, insomma, mi sembrava divertente e quindi, niente, spero che il mio inaudible possa rilassarvi se questo tipo di video vi piace, vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un like e un commento se vi va e a me farebbe sicuramente molto piacere perché mi supportate veramente tanto anche con una singola iscrizione e nulla, io direi di iniziare partiamo dal plump facciamo anche un po' di tracing sulle labbra delle modelle e qui c'è anche questo rossetto rossetto plump ne sono passati di rossetti nelle profinerie dall'epoca in cui andavano di moda le bocche rimodellate col silicone bocche così gonfie e fintissime che oggi nessuno più vorrebbe anche se tutti continuiamo a sognare labbra rimpolvate e morbide possibilmente valorizzate da un macchiascio dal colore indelebile è l'obiettivo che anche le case cosmetiche hanno un cuore rinnovandoline ripensando texture suggerendo finish high tech i nostri nuovi rossetti sono sempre più volumidi e scorrevoli per consentire a un'applicazione semplice ma di effetto offrono la possibilità di ottenere il trucco materico e duraturo eppure è confortevole indice davidifrizzi che nasce l'amica maro di stior allo stesso tempo agiscono come trattamenti rigeneranti quasi come balsami il più attuale degli esempi è il nuovo nato in seno a bison francese a dicte la curl pump 16 nuove divisa in classic neus e glitters dall'immediato effetto rimpolpante uno dei suoi punti di forza è che a 24 ore dell'applicazione l'aumento del tasso di tratazione del lab ha già raggiunto il 78% questo nello specifico è appunto il rossetto di cui si parla di ore di ore effetto volume di ora tic della curl pump 36,25€ andiamo avanti andiamo sul classic andiamo sul classic andiamo sul classic 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 facciamo anche un po' di tracing sul volto della modella ok questo lo metto le mosselle sull'orecchio ok cambiano modi e società ma non il significato di un rossetto rosso considerato sedutivo a ogni latitudine dice Claudio Fattuzzi international mega party sushi una delle novità più interessanti è la grande varietà di finish dal più ostentamente opaco a lucido estremo riprende Fattuzzi questo permette anche alle donne con labbra sottili di usare il rosso che vuol dire quello più difficile da portare le stelle già vantissime possono passare da una gradazione all'altra spaziando tra tutte le texture le overporti devono preferibilmente attingere a soluzioni più matte con pigmenti stabili e insomma consigli che vengono dati ma alla fine credo che il make up sia diciamo un gioco e che ognuno di noi può scegliere quanto e come indossare vari colori e come si sente insomma più a suo oggi e come crede che ogni colore valorizzi la propria pelle il proprio incarnato e così via allora andiamo ancora avanti passiamo ai gloss ai gloss devo dire che mi piacciono molto 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 i gloss guardate qui come rimpolvano un pochino le labbra l'unica cosa è che ad oggi un po' talvolta sono un po' fastidiosi si attaccano i capelli si appiccicano un po' comunque però l'effetto sulle labbra è molto 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 bello qui abbiamo varie tipologie di gloss luminoso di Bisham di Gloss di Adolpest 35€ oppure Glam di Nars di Sistema del Brow Power Bag Lip Kids Nars 26€ e vari altro ancora di Urban Decay di Natural di Beauty Alcooling Shop no di Shiny e di Kajer Vice ok e Paola Pimink questo qui e anche questo di Cloud di Shipper 14€ e 95€ oltre a questo tipo buba glitterato quindi è già ora e 50€ il finish brillante crea sulle labbra un effetto specchio che riflette la luce amplifica i contorni gloss è la scelta adatta perchè ha un trucco discreto o ha le labbra sottili dice il Makeup Artist Leandro Calore così ampia la palette del gloss consente sperimentazioni più o meno ardite i nude regiovaniscono e senza stravolgere le immagini aggiungono le dimensioni dal sorriso specie si applicate sopra il rossetto e poi il gloss ritorno di aumentare i volumi catalizzando l'istituto amplificata la luce prerogativa che lo rende adatto alla sera quando la luminosità è minore può essere divertente privilegiare le formule shimmer arricchite di variezza dorate garanzia di ulteriori spettacolarità andiamo ancora oltre andiamo ancora oltre e vediamo cosa cioè nella prossima categoria abbiamo i cosiddetti crazy colors crazy colors crazy colors crazy colors io direi di fare anche del tracing sul volto della modella qui sugli zigomi sul mento sulle orecchie sopracciglia 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 qua sull'occhio gli occhi sull'occhio gli occhi che ho modificato solo un po' di mascara solo un po' di mascara molto molto semplice perché l'accento come si può abandonare è posto sulle labbra si è voluto un po' di bilanciare il tutto ok andiamo qui sulle labbra abbiamo un viola un viola ed un blu sulle labbra credo che questo viola sia stato realizzato con un rosso sotto un rosso chiaro è stato applicato lo stesso blu che vediamo sotto ma mischiandolo appunto con il rosso e questo viola perché sui porti si nota ancora un po' il rosso è un'idea molto molto carina per chi non vuole acquistare un rossetto necessariamente viola allora vediamo qui cosa cosa abbiamo un po' di tracing su questo rossetto giallo rossetto giallo di lemon rossetto missis di Gaetana 12k di 33 euro ok e qui blocco baldo blocco baldo blocco baldo blocco baldo del rossetto di 20 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 allora abbiamo un crazy color le nuance shocking verde e giallo sono nate per stupire e si pirano perfettamente alla moda della primavera estate quindi questa primavera, questa estate si viva chiaramente quando vi è l'occasione certo di sfoggiarli ma anche devo dire in qualsiasi momento o a caso anche per un selfie di osare con qualche colore più acceso perché alla fine se diciamo durante l'arco dell'anno non ci sentiamo un po' particolarmente invogliate a farlo forse la primavera d'estate è proprio il periodo adattolo con tutti i colori della natura che sfoggiano e vediamo cosa c'è scritto qui il concetto del color block si estende dalle palpebre alle labbra lo sguardo passa necessariamente in secondo ordine visto che le palette rossi displorono a nuanza del poco otace il sorriso si colora a seconda dell'outfit e dell'umore blu nevi, verde e smilato, giallo rosa, lilla, one mood, one color, sintetizzato, respira, makeup artiste, riana e global ambassador, venti e piuri una scelta accessibile a quasi a tutte a patto di eliminare il resto del maquillage a toni e nude accesi solo tanto con leggero di alaite sui zigomi o da un filo di palo sulle guance allora noi ci fermiamo qui la classificazione è finita e nulla io ringrazio chi ha guardato il video fino a questo punto e si è iscritto al canale ha lasciato un like e un commento noi ci sentiamo domani con un nuovo video ciao 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 ciao